Massima attenzione a quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica a Pellezzano al ridosso del quartiere di Fratte di Salerno in un vecchio deposito dismesso con la fuoriuscita di liquidi urticanti da alcuni fusti, a promettere dal sindaco di Salerno Enzo Napoli, rimasto a monitorare l'altra notte la situazione con il collega di Pellezzano Morra. In particolare l'amministrazione del capoluogo resta in attesa dei risultati delle analisi effettuate dall'ARPAC, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, su una ipotetica contaminazione delle acque del fiume Irno. Noi dobbiamo aspettare che l'ARPAC faccia le analisi con coscienza, come giusto che sia, e ci dia il riscontro e il referto di quanto avrà verificato. Al momento la situazione naturalmente è sotto controllo, non è una frase fatta, ma è così, nel senso che sono stati neutralizzati le emissioni d'origine con un'azione meccanica di copertura della vasca che aveva raccolto questo liquame, del terreno con degli inerti. Però è una situazione assolutamente provvisoria, si dovrà poi passare a una sanificazione del luogo, sapendo però di che cosa stiamo parlando. Allora l'ARPAC è venuta proprio quella notte, eravamo lì tutti quanti alle tre di notte a verificare che cosa stava succedendo, ha fatto dei prelievi e ora ci dovrà dare dei risultati a stretto giro di posta. L'autorità giudiziaria seguirà il suo percorso, noi abbiamo semplicemente in animo la garanzia della salute pubblica. Intanto si vigilerà sulle attività di bonifica nell'ex deposito, già avviate da tempo da una ditta specializzata, un'area oggetto di una variante urbanistica del Comune di Pellezzano per la realizzazione di 206 appartamenti. Il Comune di Pellezzano farà le scelte urbanistiche che ritiene più idonee, per quanto ci riguarda noi faremo in modo da vigilare che le operazioni di bonifica e quant'altro, anche se è una competenza di stretta pertinenza dell'ASL e di altre istituzioni faremo in modo da verificare e di tranquillizzarci sul fatto che vengano eseguite opere assolutamente pertinenti alla natura del disastro, forse è una parola esagerata del problema serio che c'è stato.